Sarà un vero e proprio nuovo servizio, un servizio completamente gratuito per il cittadino in un luogo centrale, qua in Piazza del Popolo. Come sapete ormai sono diversi mesi che il Comune ha spostato lo sportello in forma servizi da Largomamiani a Piazza del Popolo. Lo sportello in forma servizi è il primo punto di incontro tra il cittadino e l'amministrazione. E in questo sportello sarà realizzato grazie alla disponibilità e alla collaborazione da parte di professionisti che hanno subito aderito al protocollo d'intesa. Ci saranno quindi notai, ci saranno commercialisti, ci saranno la FIAIP che sono gli agenti immobiliari per dare un servizio che ruota intorno al mondo della casa. La casa è un bene primario, un bene importantissimo su cui in questo momento si sono accesi in particolar modo i riflettori anche perché è ripreso un certo dinamismo nella compravendita degli immobili, nella locazione, in quelli che sono anche gli interventi legati ai bonus. E questo sportello servirà a dare tutte le informazioni da professionisti, come dicevo, quindi commercialisti e notai e tutti coloro che possono preparare il cittadino nel momento in cui si appresta ad acquistare un immobile. Quindi tutte le informazioni che ruota intorno sia la compravendita, la locazione, l'accesso al credito e anche i bonus. Quindi è un servizio completamente gratuito offerto da questi professionisti che si renderanno disponibili due giovedì al mese, un giovedì ogni 14 giorni in orario pomeridiano. Diciamo che è uno strumento importante per il cittadino per orientarsi in un mercato che a volte è confusionario tra leggi del 110, successioni, altre normative. Diciamo che è uno strumento secondo me importante che vede più professionisti insieme dove diamo un servizio al cittadino di consulenza gratuita, che secondo me è una cosa molto importante in questo momento. E in particolare noi teniamo a creare una specie di cultura della prevenzione giuridica nel senso che il cittadino è opportuno che sia informato sulle problematiche legali, in questo caso legate all'acquisto di un immobile, il più presto possibile in modo che possa affrontare un acquisto nel modo più informato possibile. Perché per esercitare la propria libertà di acquistare deve essere prima di tutto informato e noi vogliamo anche evitare che queste informazioni, in un certo senso, anche se è una goccia nel mare, vadano ricercate su luoghi anonimi e formali come internet e cose di questo genere. Quindi anche un servizio alla cittadinanza face to face to, per così dire.